Weekend di sangue sulle strade aritine. Ieri la morte di un 34enne cortonese di origini rumene, Georg Lucian. Erano le 6 del mattino quando il mezzo nel quale era passeggero, un furgoncino pick-up, ha finito la sua corsa contro il muro di cinta di un'abitazione in via Adua, mentre stava viaggiando da Castroncello in direzione Castiglion-Fiorentino. Per Georg non c'è stato nulla da fare ed è morto sul colpo. Sull'incidente indagano i carabinieri di Cortona. A quanto emergerebbe, sembra che il furgone, uscendo dal sottopasso del cavalcavia ferroviario, non abbia continuato la traiettoria in curva, ma ha impattato contro la recinzione in muratura che si trova lungo la strada. Alla guida c'era un connazionale di 36 anni che è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Siena. Le sue condizioni sono in miglioramento. L'ipotesi di reato in casi come questo è ora quello di omicidio stradale. Sempre domenica sera è ancora a Castiglion-Fiorentino un altro incidente con un'auto che si è scontrata con una moto lungo la SR-71 intorno alle 23.30. Nonostante l'intervento del Pegaso, i feriti non sono gravi. Il Centauro, un ragazzo di 24 anni, è stato trasportato con l'elicottero Pegaso all'ospedale Lescotte di Siena in codice giallo. La donna, che viaggiava a bordo della vettura, si trova invece all'ospedale della Fratta in codice verde. Sul posto, un'ambulanza della misericordia di Castiglion-Fiorentino e i carabinieri per i rilievi. Il terzo incidente domenicale si è verificato in serata in località Chiasa Vico dopo un impatto frontale fra due auto. Due feriti, uno dei quali, un uomo di 44 anni, è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale Fiorentino di Careggi.